L'AFAR, Associazione Familiare Alzheimer Ragusa, organizza due giornate di formazione su cargivar formali e informali di persone con demenza, ovvero un corso per gli accompagnatori di persone appunto con demenza. Il convegno si terrà il 19 e il 20 gennaio prossimi a Modica, presso l'auditorium di Piazza Matteotti, a partire dalle 15.30 di venerdì e dalle ore 9 di sabato. Il convegno è strutturato in tre sessioni. Nella prima si tratterà del tema la demenza, diagnosi e clinica. Nella seconda invece si affronteranno i trattamenti non farmacologici e il caregiving. Infine l'ultima sessione sarà dedicata al volontariato, le associazioni nella rete sociale, un valido aiuto nel territorio. Diversi gli interventi di medici, psicologi, assistenti sociali, tecnici, volontari e familiari, con anche esponenti delle associazioni nazionali e regionale. Sarà inoltre presente il giovane regista Giuseppe Alessio Nuzzo, che parteciperà ai lavori del convegno, con il suo cortometraggio che verrà proiettato alla fine della prima sessione, Lettera a mia figlia. Il lavoro è un'interpretazione estruggente di Leo Gullotta nei panni di un anziano padre che scrive delle lettere alla figlia nel tentativo di spiegare la sua malattia e ciò che sta provando. È di fatti il percorso della malattia, le sue origini, le motivazioni e la storia, con lo scopo di farla conoscere, ma anche di parlare di quelle che sono le prospettive future, sia in ambito scientifico che terapeutico. Il corto, infatti, serve a far entrare chi guarda in questa piccola storia di una malattia terribile, qual è l'Alzheimer. Il film è il finalista in centinaia di festival in tutto il mondo e vincitore di premi, tra cui la menzione speciale ai nastri d'argento e il premio come migliore cortometraggio al Giffoni Film Festival. L'Alzheimer deve essere considerato una priorità per la salute pubblica, perché alto il rischio per le persone con malattie neurodegenerative e con demenza e a volte non sono adeguatamente sostenuti. È necessario quindi sostenere il percorso che compiono le persone affette da demenza e i loro familiari. Il convegno è patrocinato dai comuni di Modica e Ragusa, dal Comitato Scientifico di Bioetica della Diocesi di Noto, dall'ASP di Ragusa, ma anche da diverse associazioni e privati, con anche l'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana.